Eccoci qui, 1607, ensemble per musica antica e nuova, e abbiamo preparato qualcosa di molto speciale per te. Sudando, sudame il caesano, ferruzzi da via. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao a tutti, mi chiamo Maria e sono la cantante e fondatrice di Early Music Bird. Early sta per la mattina. Early Music è sinonimo di musica antica, ma non solo. E Bird sta per il canto esultante degli uccelli al mattino. Dopo ogni notte segue un mattino. Con Early Music Bird vogliamo dare una voce a questo messaggio della natura. Dopo ogni notte, ogni crisi apparentemente infinita dalla tua vita, per quanto scura, segue una mattina, piena di una luce dorata del sole matutino, una golden hour, piena del canto giubile degli uccelli e di una colazione sostanziosa, con una bella tazza di caffè o te. Con Early Music Bird vogliamo ispirarti e rafforzare la tua fede nella bellezza e la tua fiducia nella voce della natura, della musica e dell'arte. Il sottotitolo Early New Music, cioè musica antica nuova, si riferisce alle opere che abbiamo registrato nel CD. Abbiamo registrato sei aree di musica antica, principalmente dalla letteratura barocca. Cinque prime registrazioni mondiali di musica antica, ovvero opere che risuoneranno per la prima volta in centinaia di anni e due prime registrazioni mondiali di musica contemporanea. Tutta la musica ruota intorno al mattino, all'alba, agli uccelli, rondini, piccioni, usignolli, anche un uccello robusto, un'aquila non deve mancare, naturalmente non il nostro caffè del mattino. Il CD è stato registrato in una chiesa di montagna che si trova sulla cima di una montagna alta più di mille metri ed ha un'acustica particolare ed una vista eccezionale. La musica è accompagnata da un libretto che apparirà come libro e che rifletterà nella sua realizzazione ed esecuzione la nostra ricerca di qualità nel campo musicale ed artistico. Con l'artigianato della stampa di libri, in parte fatto a mano, viene prodotto qui in Austria un libro con copertina rigida con simi a rilegatura di lino, cucitura a filo, capitello, un nastro di lettura, carta di alta qualità con un tocco particolare. La copertina ed il dorso sono in un rilievo d'oro che ricorda il sole dorato del mattino. Buongiorno, sono Luca Bianca e devo dire che ho suonato con molto piacere su questo disco di Maria, che comprende molte belle aree di musica antica del periodo barocco. Buongiorno, suporti il progetto Early Music Bird. Questo è un progetto, creativo, internazionale Early Music Project con Maria Weiss. Sie è incredibile e anche gli altri. Per me è stato molto speciale, am progetto Early Music Bird, per il progetto di essere e quindi mi piacerebbe molto piacere, se anche voi poterlo, se anche voi poterlo, se poterlo anche voi poterlo. Grazie! Grazie a tutti. Molte sorprese e spero che ci sia qualcosa per te. Grazie di diffondere questo video, grazie del tuo supporto già adesso e ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.